Buongiorno a tutti, dopo questa carrellata di progetto io vi riporto un po' ad alcune cose che Sesi nel suo intervento aveva già anticipato e ai motivi per cui il Ministero ha supportato questo progetto. Vi riporto un po' al cuore, quindi a Natura 2000, forse spero con cose non troppo già sapute, conosciute, già dette, magari andiamo un po' veloce, però ci tenevamo a ripartire da questo perché un po' anche vista la presentazione di chi mi ha preceduto non vorremmo perdere il treno di questo progetto per comunicare Natura 2000, ovvero per fare chiarezza e per cercare di rendere anche al grande pubblico queste sigle, non solo delle sigle che poi a volte un po' pasticciamo, ZSC, ZPS, ZTL, che è vero sono antipatiche, però che dietro hanno parecchia roba, hanno un percorso di vent'anni e più e quindi insomma ci interessava che questa comunicazione non fosse troppo, perdonatemi i comunicatori non mi sgridino, troppo annacquata, ovvero si parli di biodiversità, di ambiente, di ecologia, di piante, fiori, ma si parli anche in maniera puntuale e precisa, se è possibile, di che cos'è Natura 2000, perché è proprio secondo noi un valore in termini proprio di costruzione di rete europea particolare che vale appena comunicare in maniera corretta. Vediamo un po' come faccio ad andare avanti. Quindi velocemente, però veramente senza essere troppo noiosa, mi sono resa conto che forse è una presentazione un po' troppo istituzionale, quindi interrompetemi se vi dico cose conosciute. Mi piaceva un po' raccontare, partendo dalla presentazione di Natura 2000 che ha fatto Sesi, a che punto siamo in Europa su Natura 2000. La si è detto, è stato un anniversario importante, ma soprattutto, Cicarese ha già citato il fitness check, negli ultimi anni c'è stato un processo particolare che ci ha fatto un po' tremare i polsi, perché ci sono stati anni in cui sembrava che la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat probabilmente potevano cadere nel dimenticatoio ad essere lasciate un po' così, non più inattuate perché non più percorribili e implementabili. Quindi c'è stato questo processo importante e poi vedremo dove ci ha portato. E ci ha portato in realtà a uno strumento che anche questo sarebbe interessante passasse nel piano di comunicazione, perché c'è questo piano d'azione europeo, che in realtà è un piano a brevissima scadenza, perché parla del entro il 2020, in cui c'è però una lista della spesa, delle cose urgenti da fare su Natura 2000 e quindi non dobbiamo inventarci niente. Lì c'è e vedremo, c'è proprio un'area sulla comunicazione. Quindi volevo raccontarvi brevissimamente le priorità di questo piano d'azione, dire a che punto siamo in Italia con la parte, non dico preponderante, però con la parte che era più da costruire, ovvero queste benedette trasformazioni tra siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, quindi le ZPS, che sono le zone per la protezione degli uccelli, diciamo, che fanno capo alla direttiva uccelli, sono una rete che è più o meno stabile, quindi che non ha bisogno di passaggi ulteriori. Il pezzo grosso di Natura 2000, che era la trasformazione di questi siti di importanza comunitaria in ZSC, zone speciali di conservazione, la trasformazione non è la bacchetta magica, è che questi siti diventino parte, diciamo, territorio effettivamente gestito con delle regole, con delle misure di conservazione, non solo vincolistiche, che è un termine che abborro, però insomma non solo di obblighi, ma anche di, in teoria, misure attive, quindi che prendono in considerazione anche le attività agricole e gli altri attori sul territorio, quindi questa trasformazione, l'Italia era molto indietro, però vediamo a che punto sta, e poi volevo brevissimamente raccontarvi perché io sono qui, ovvero perché il Ministero ha appoggiato questo progetto. Allora, velocissimamente l'escurso, giusto perché appunto è importante sapere a che punto, cioè da che punto e da quali basi esce poi il piano d'azione di cui vi parlerò. Vi dicevo, nel 2014 è iniziato questo grandissimo processo, in realtà che ha avuto anche una consultazione dal basso, quindi anche i cittadini potevano dire la propria sulla attuazione delle direttive, sulla bontà delle direttive abitato uccelli. Questo grande processo che è stato veramente complicato, però è una partita diciamo che si è conclusa nel 2016, dove appunto la Commissione, il Consiglio, eccetera, hanno stabilito che tutto sommato queste direttive, pur avendo un sacco di punti ancora non espressi, non applicati, pur essendo un po' complicati, in alcuni casi datate, però valeva la pena mantenerli perché sono di fatto i capisaldi della conservazione della biodiversità per le strategie europee e quindi per i Paesi membri a cascata e quindi si è deciso di mantenerle e si è deciso di rilanciare la loro attuazione cercando di raddrizzare un po' il tiro e di mettere a fuoco le priorità di intervento con questo piano d'azione. È proprio per addetti ai lavori, però penso che chi deve comunicare Natura 2000 forse può essere interessato, c'è un documento interessante che è un rapporto della Corte dei Conti Europea del febbraio 2017 in cui la Corte dei Conti Europea ha fatto le pulci anche alla Commissione, non solo agli Stati membri, ma in generale appunto a che cosa non funziona sull'attuazione delle direttive a Natura ed è un rapporto interessante perché punto per punto, articolato per articolato, si vedono le cose che non funzionano, però in termini diciamo costruttivi, nel senso laddove ci possono essere delle strategie sia di policy sia di altro carattere da implementare per migliorare le direttive, diciamo è ben raccontato. Io lo trovo sempre tuttora un documento di orientamento interessante. Comunque sulla base di questa audit, perché di fatto è stato un audit della Corte dei Conti, la Commissione ha deciso di rilanciare appunto di fare questo piano d'azione in una comunicazione che poi è stata sottoposta al Consiglio, approvata dal Consiglio ed è uscito il piano d'azione, però interessante il titolo, piano d'azione per la natura, quindi il focus continua a essere la biodiversità e la conservazione della natura, i cittadini e l'economia. Già nel titolo si ribadiscono i valori innovativi di una direttiva che è del 92 però continua secondo me a avere una portata, insomma, un significato e un'impostazione innovativa tuttora, perché si continua a voler conservare la biodiversità, quindi specie abita di interesse comunitario, continuando a lavorare sulla coabitazione e coesistenza dell'uomo, della presenza delle attività dell'uomo, cioè della presenza dell'uomo, quindi di chi abita, di chi abita i territori e dell'economia, quindi Natura 2000 addirittura ha una serie di habitat in Allegato 1 che sono strettamente collegati alla presenza delle attività umane, in particolare agricole, quindi insomma già nel titolo del piano d'azione vengono fatti salvi le prerogative di questa direttiva. Il piano, vi dicevo, non è un piano che guarda lontanissimo, non guarda oltre il 2020, dopo il 2020 chi vivrà vedrà, è un piano che parla delle urgenze da qua al 2020, quindi entro la programmazione economica, se vogliamo parlare di programmazione economica, comunque entro la durata della strategia europea per l'ambiente, entro il 2020, da qua al 2020, quindi in realtà si sta parlando di due anni. è articolato in quattro settori prioritari e in 15 azioni, ovviamente lo trovate sui siti della Commissione, sul nostro sito ovunque online, e le azioni, è interessante perché non sono solo elencate, ma c'è anche una roadmap che accompagna la loro attuazione. Le due grosse novità in realtà sono, proprio perché nell'audit della Corte dei Conti europea un punto chiave era lo scarsa coinvolgimento delle amministrazioni locali e dei portatori di interesse nell'applicazione delle direttive, si dà un... grazie, no ma mi capita sempre, c'è 52 anni, parlo in pubblico, ma mi viene questo, e vabbè, non è l'acqua che risolve. Comunque vi dicevo, si vuole dare grande forza a una struttura che è il Comitato delle Regioni e dei portatori di interesse, che a livello europeo forse è stata per queste direttive poco utilizzata. è diciamo una struttura che coinvolge dei vari singoli stati membri, dei rappresentanti, delle amministrazioni locali e dei vari portatori di interesse. Quindi mettere il focus nel piano d'azione sul Comitato delle Regioni vuol dire comunque accorgersi che forse ci si è lasciati un po' indietro questi soggetti. E poi, altra cosa importante su cui il piano d'azione mette moltissima enfasi, e già lo metteva appunto l'audit della Corte dei Conti, è che l'implementazione delle direttive, la conservazione della biodiversità, non va molto lontano se non ci sono i famosi processi di integrazione delle politiche e degli obiettivi di biodiversità nelle altre policy. In realtà questo probabilmente verrà messo in discussione nel post 2020 perché sta ritornando in auge questa creazione di un fondo ambiente ad hoc, però ad oggi noi dobbiamo comunque lavorare sulla integrazione con altri fondi perché non esiste un fondo, a parte l'AIF che ha questa specificità, ma non esistono fondi per l'attuazione delle politiche ambientali. E quindi, vabbè, si attua attraverso questi passaggi. Quindi garantire il finanziamento prevedibile negli altri fondi che non sono ambientali e poi, vabbè, c'è tutto uno strumento che è il PAF, su cui non vi tedio, ma che è uno strumento con cui le amministrazioni regionali possono provare appunto a fare sinergia con le altre forme di finanziamento. Si legge forse poco, però comunque nel piano d'azione che trovate online ci sono ben elencate, le quattro priorità del piano sono, vabbè, la prima è migliorare gli orientamenti e le conoscenze, dando più coerenza alla rete e in realtà è una priorità che è mirata più all'aspetto istituzionale, quindi migliorare la conoscenza, completare l'attuazione proprio di quello che è l'individuazione dei siti, delle misure e quindi, diciamo, ha un carattere più di attori istituzionali. Una seconda priorità che è quella proprio di, diciamo, cercare di, quello che vi dicevo prima, di fare sinergie tra le varie politiche. Una terza azione che è quella di implementare l'integrazione con le forme di finanziamento, ma volevo più che altro parlare e attirare la vostra attenzione, visto che è strettamente coerente con le azioni che ho sentito raccontare di progetto questa mattina, una delle cose che abbiamo visto non funzionava tanto, non ha funzionato finora, il 92% dei cittadini italiani che non conoscono Natura 2000 è drammatico. Lo sappiamo perché in realtà anche come Ministero abbiamo accompagnato una serie di progetti, Fahrenheit, piuttosto altri progetti live di comunicazione e tutte le volte ce lo diciamo, l'agricoltore non sa di essere dentro Natura 2000, il cittadino non sa che cosa vuol dire Natura 2000, è un dato che purtroppo è abbastanza stabile e quindi il piano d'azione ha una serie di, cioè nella priorità di, cerca di articolare tre azioni importanti che fondamentalmente mettono a punto, mettono a fuoco le necessità per migliorare la comunicazione, la sensibilizzazione, il coinvolgimento che poi vuol dire anche, cioè diciamo questa priorità secondo me parla non solo, cioè a vari livelli di comunicazione, conoscenza e sensibilizzazione quindi dal cittadino comune che non conosce a chi invece avrebbe voce e mi rifaccio anche a quello che diceva Sesi sui processi di valutazione ad esempio, soggetti che hanno una responsabilità, possono avere una responsabilità attiva nella partecipazione, nelle valutazioni di progetti ma non sanno di averla, non sanno di poterla esercitare, non sanno come quindi si va dalla disinformazione proprio del dato all'assenza e all'omissione di intervento laddove invece potrebbe essere possibile Focus su Natura 2000, vabbè l'ha già raccontato bene Sesi io vi volevo raccontare, vi dicevo la parte che è ancora da completare quindi la parte della designazione dei siti tra parentesi abbiamo l'ennesima procedura di infrazione in Italia sulla ritardo con cui sta avvenendo questa trasformazione da siti di importanza comunitaria a zone speciali di conservazione è un ritardo dovuto a mille cose noi abbiamo una caterva di siti, abbiamo scelto di fare tantissimi siti diversi per 21 regioni quindi c'è la regione che ne ha tanti grandi, che ne ha pochi grandi la regione che ne ha tanti piccoli la regione che li ha tutti dentro le aree protette la regione che li ha tutti fuori dalle aree protette quindi, vabbè, biodiversità nel senso vero del termine quindi è un processo veramente complicato complicato anche per l'autonomia regionale questa è una materia di fatto coordinata come tema ambientale dal Ministero ma delegata dalle regioni alle regioni, quindi ogni regione ha tutto un apparato legislativo, normativo, di coinvolgimento dei soggetti insomma è veramente un puzzle abbastanza complicato comunque siamo arrivati quasi alla fine quindi abbiamo tra l'altro avuto un incontro bilaterale un paio di settimane fa a febbraio con la commissione dove insomma si sta vedendo un po' la fine del tunnel e questa è la fotografia ad oggi poco leggibile però questi sono i numeri per regioni che cosa c'è ancora? vabbè, questo è un po' a grandissime linee il brogliaccio che ci ha accompagnato in questa attuazione della direttiva in questi anni quindi a partire dal ricepimento della direttiva del 97 alle cose che stiamo facendo ora come vi dicevo per la procedura di infrazione in realtà era semplicemente per dire è una cosa complicata ma ci stiamo lavorando e ci stiamo lavorando sia dal punto di vista di decreti di attuazione quindi di atti normativi ma anche di processi quindi tutto il discorso ovviamente si andrebbe un po' fuori campo però Natura 2000 vuol dire anche una direttiva che si integra con un altro mondo di direttive e qua ne ho citate solo due la direttiva Acque cioè tutto il mondo della pianificazione dei siti Natura 2000 che si sovrappone e guardo Sesi perché sa bene di cosa parlo alla pianificazione di distretto a tutto quello che ruota intorno al mondo della conservazione e tutela delle acque vuol dire che sono due direttive che si devono parlare per forza per le misure di conservazione dell'ambiente acquatico dovranno parlare e quindi però vuol dire soggetti diversi insomma è un po' complicato fitofarmaci la famosa direttiva pesticidi anche qui è una direttiva che entra prepotentemente dentro Natura 2000 perché Natura 2000 ha un 70% di aree agricole per cui vuol dire che chi fa gestione nei siti Natura 2000 deve interloquire con chi si occupa di sviluppo rurale con chi deve attuare la direttiva fitofarmaci con chi deve prendere le precauzioni o fare le scelte corrette per cui insomma Natura 2000 non è uno slogan ma è veramente un tentativo di gestione integrata di aree ben precise e la priorità d'azione almeno a livello insomma istituzionale Ministero e Regioni in questo periodo insomma che vada in questi due anni anche di attuazione del piano d'azione di cui parlavamo prima è proprio quella di arrivare a fare questo circuito virtuoso tra il momento di conoscenza dati interessante quello che farete voi di da una parte tradurre i dati intelleggibili per i non eletti dei formulari standard ma anche magari di verificare sul territorio io in realtà non volevo fare l'intervento ma volevo fare una sfilza di domande perché prenderete dati e raccoglierete dati come li raccoglierete come immaginate di validarli la citizen science è una cosa interessantissima ce lo racconteranno poi i colleghi Lucilla Carnevali o i colleghi della Regione Lazio però insomma ci sono dei paletti da mantenere perché altrimenti diventa un disastro quindi sono molto curiosa e penso che comunque sarà molto interessante e il tema della conoscenza e dell'aggiornamento dei dati è un tema che è importantissimo per questo circolo virtuoso di attuazione della direttiva l'altra cosa è che questo passaggio di cui vi parlavo in siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione non è la bacchetta magica vi dicevo ma è questi siti che vengono dotati di misure sito specifiche come si diceva prima queste misure sito specifiche sono costruite sulla base di obiettivi la Commissione ribadisce molto l'importanza bisogna evidenziare per ogni sito Natura 2000 qual è l'obiettivo di conservazione perché Stato Italia Stato membro Italia hai deciso di creare questo sito Natura 2000 qual è l'obiettivo quali sono le tue specie target i tuoi habitat target dove vuoi arrivare questi obiettivi devono tradursi in misure questi sono gli habitat voglio tutelare gli habitat di praterie avrò delle azioni di gestione accurata del pascolo di controllo delle esotiche insomma ci saranno tutta una serie di misure e attraverso il monitoraggio verificherò l'efficacia di queste misure e il raggiungimento degli obiettivi ovviamente il tutto deve andare a regime su quello che è l'obiettivo finale dell'implementazione della direttiva che è lo stato di conservazione soddisfacente per abitate specie quindi quello è sicuramente per noi soggetti istituzionali una priorità portare a sistema questi processi che stiamo finendo di costruire l'altra priorità di azione è interagire nelle politiche e quindi tavoli aperti con il ministero dell'agricoltura tavoli aperti con il ministero dello sviluppo economico per cercare di lavorare insieme e l'altra priorità e qui ritorno al progetto che è fondamentale è la concertazione e la governance perché non solo i cittadini spesso sono disinformati poco a conoscenza di ma sono anche poco informati delle potenzialità mi è piaciuto tantissimo l'intervento del tuo omonimo che non so il grado di parentela per cui insomma perché secondo me si apre veramente un'opportunità con questo progetto e con l'interfaccia che riuscirete ad avere con le aziende una secondo me una possibilità grandiosa perché li interfaccerete in una maniera insolita nuova e se dal punto di vista istituzionale tante volte abbiamo provato ad avvicinare le aziende agricole ancora ancora è un mondo che tutto sommato un po' orecchiamo però tutto il mondo imprenditoriale con diciamo i contatti istituzionali non è facile esattamente per il processo di comunicazione che raccontavi noi arriviamo sul tavolo pesantemente con misure obbligatorie di conservazione quindi un po' fastidiose comunque con la targa Natura 2000 un po' così li mettiamo sulle difensive e laddove ci possono essere invece opportunità di sinergie di filiere di cose interessanti non è diciamo il tavolo giusto probabilmente con quello che ho sentito insomma velocemente potrebbe essere invece interessante che sentano parlare di Natura 2000 in un modo diverso e con un interlocutore che sa parlare il loro linguaggio sono curiosa di vedere cosa verrà fuori altra cosa appunto soprattutto nel mondo agricolo però appunto anche nel mondo imprenditoriale l'ignoranza delle potenzialità in Europa moltissime aziende di vari settori non solo di quello agricolo hanno saputo creare marchi di provenienza o comunque hanno saputo costruire un marketing non so se è la parola giusta perché sono una biologa però intorno a Natura 2000 quindi veicolando anche le opportunità le cose positive facendone diventare una in Italia tutto questo è ancora molto molto indietro quindi questa priorità d'azione non solo sulla concertazione in termini di gestione condivisa ma anche proprio di valorizzazione delle opportunità mi sembra interessante chiudo non mi ricordo se volevo dirvi un'altra cosa penso che sia importante cercare di adesso i dettagli del progetto non li conosco e forse si sarà poi nella discussione in modo di però penso che sia importante arrivare sui territori in modo che i territori siano preparati stupidamente abito vicino a Orvieto so che è una tappa che poi verrà spostata a settembre e ci riguarda però ecco ci sono tanti soggetti su quel territorio che sono molto interessati tra l'altro c'è una strategia aria interna che prevede un sacco di attività anche di mobilità sostenibile quindi questa arrivare sul territorio preparato sarà fondamentale ecco perché penso che ci siano tante opportunità legate a questo progetto grazie grazie grazie